ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video io sono lori frost e oggi ragazzi siamo su geometry dash oggi ragazzi andremo a fare dei livelli nuovi tra questi ci sono come avete visto abbiamo completato stereo madness, back on track, polargeist, dry out, bass after bass, cantlantico, manca jumper che sono arrivati al 93% e quegli altri difficili oggi proveremo a completarne uno fra questi tre ieri è uscito un episodio di minecraft sulla skywars se volete vederlo dovete pensare sul mio canale ed è un episodio che è uscito ieri a essere troppo appoggiante coach mi ha già fatto Grazie per la visione! Nooo! Eravamo molto avanti. Ok, facciamo cycle. Scusate. 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 tutta in parte poi è uscita anche nella canzone che è Megalovania di Undertale che conosceva aspetta vabbè ve la faccio sentire no aspettate non c'è wifi lui è bravissimo infatti la maggior parte delle in canzoni vedete ragazzi quella era Megalovania in questi giorni cercherò di impararla per portare nuovi video aspettate no è troppo difficile ragazzi direi che per concludere possiamo fare una nostra canzone facciamelo onno dai non me ne farei no è troppo difficile no è troppo difficile diciamo guardare ragazzi il video può finire qui lasciate tanti like commentate per nuovi episodi se non vi siete iscritti al canale iscrivetevi e ci vediamo al prossimo video bella roba